Sinceramente ieri sera è stata una grossa sorpresa e un grande piacere essere premiati da Fiemme 3000, tanto più per un aspetto che noi riteniamo fondamentale che è quello della formazione e della partecipazione alla formazione in questi anni. Oramai il nostro apporto con Fiemme dura da quasi dieci anni, siamo veramente contenti e soddisfatti, sappiamo che per loro la formazione è un aspetto fondamentale e l'ho diventato anche per noi in questi anni. Fiemme credo che sia una delle rarissime aziende che dimostri di avere idee chiare e concrete negli anni e questo per noi è uno stimolo per continuare a seguire quello che è il loro progetto, quella che è la loro filosofia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!